Sava Calici di Stelle, venerdì 10 agosto 2018, dalle ore 20 sino a Notte Fonda. Notte di vino, note di stelle, dal tramonto all'alba. È un evento del Comune di Sava con il patrocinio di Italia Agenzia Nazionale Turismo, con l'organizzazione del Movimento Turismo del Vino e dell'Associazione Nazionale Città del Vino. Intrattenimento musicale con la grande orchestra italiana, ospite Don Bacchi. Benvenuti nella Pulla del Primitivo di Manduria. La Kermes giunge alla sedicesima edizione e si svolgerà nel centro della città. In Via del Prete saranno allestiti i padiglioni espositivi e ci sarà la degustazione dei vini Doc Primitivo di Manduria e di indicazione geografica tipica Salento e Tarantino con acquisto calici. In piazza di sorgimento, alla Casa del Gusto, degustazione guidata a vini di origine controllata e di origine controllata e garantita, curata da sommelier. E anche mostra dell'artigianato. Nel Parco Pubblico Sassi, osservazione delle stelle. In piazza Spagnuolo Palma, degustazione di piatti tipici della gastronomia locale e visite al Museo dell'Olio. In piazza San Giovanni Battista, intrattenimento musicale con la grande orchestra italiana, ospite Don Baki. In Via Roma, visite guidate al Museo Missionario Cinese e di Storia Naturale previo appuntamento. Per l'occasione, il 10 agosto, saranno aperti e visitabili gratuitamente Il Museo di Storia Naturale ed il Museo Missionario Cinese in Via Roma Il Museo dell'Olio in piazza Spagnuolo Palma I presepi di piazza Mercato, di via Croce e della sala Ampipolis in piazza San Giovanni Per info 099 97 21 909 099 66 1 22 42 E-mail Sava.calicidistellechiocciolagmail.com Sito web www.comune.sava.it Si ringraziano gli sponsor Kairos, società cooperativa sociale Consorzio di tutela primitivo di Manduria MD Service, consulenza salute e sicurezza sul lavoro Ladisa, quality e bovol Cooperativa solidarietà e lavoro Zona notte, specialisti nel riposo